Ciao mio caro amico aspirante trader professionista e profittevole, oggi è lunedì 1 giugno 2020 permettimi di mostrarti il trade profittevole che ho fatto durante l'apertura Pitusa venerdì abbiamo avuto una sessione, come vedi il mercato è aperto nel range precedente di giovedì è andato a ribasso e poi è salito a rialzo e c'è questa importante linea magenta come livello di oggi, vada bene durante l'Asia session il mercato è stato dentro il range Pitusa di venerdì e in prossimità dell'apertura il mercato era qua, in prossimità della linea rossa che è la valo area high, questa linea rossa di venerdì, la valo area high di venerdì bene, in questa situazione dove c'è il punto di mezzo della sessione overnight qui e il POC della sessione overnight e il POC e un altro POC precedente ancora, scusami, un punto di mezzo ancora importante qua io non ho fatto altro che aspettare la prima occasione per entrare con 10 contratti perché abbiamo aperto dentro il range precedente 10 contratti long buy il mercato come vedi apre ha fatto un'accelerazione a ribasso per prendere tutta la liquidità di ordine qui sotto sotto la valo area low, questa linea blu, come vedi la valo area low di oggi ha preso la liquidità e poi ha eseguito premiamente il mio ordine il mio stop loss strutturale sotto il punto di mezzo della sessione non mi ricordo, si della sessione overnight qua, anzi no, della sessione di venerdì midpoint di venerdì scorso pitusa e il mio target è stato primi due contratti, non ho fatto un tempo a metterci in contatto ho messo due contratti subito qui sulla linea magenta che è l'importante livello di venerdì e gli altri contratti sono ancora qua al POC della sessione overnight bene, il mercato mi vedi arriva qua, poi inverte, viene giù e qui continua a intrappolare sellers per poi, continuo a intrappolare sellers, per poi finalmente questi sellers cedono e il mercato ecco che è pronto ad andare, prima a prendere i miei rimanenti 3 target qua sul massimo dell'apertura e poi gli altri 5 target qua, proprio un picco 2 sotto il POC della sessione overnight come vedi è a questo punto protetto il mio stop loss da qua l'ho messo a brecchino a più 1 sotto questo big buy in balance nel footprint da 5 minuti e poi il mercato mi va a target sapete che con questo trade mi sono preso con 10 contratti long 1775 dollari caro amico, se anche te vuoi tradare in questo modo a un potere divino e fare anche meglio di me nel mercato dei fiduci, delle azioni e delle azioni, allora scrivi la tua storia adesso e mandami il link sotto a questo video ciao e ci vediamo domani